Gentili telespettatori, buona giornata. Sentite quello che ci racconta oggi Elena, che si fa chiamare Ellie Schlein, perché è divertentissima, dai, è divertentissima. Ha detto che, credo che Giorgia Meloni si sia chiusa nel palazzo, o palazzuna, si è chiusa nel palazzo e non parla più con le persone, se non tramite i social, e ogni volta cerca di incolpare qualcuno. Immaginatevi la Meloni che non parla più con le persone. Va al supermercato, visto che lei dice che parla tramite i social, deve chiedere un'informazione e lo scrive su Facebook e poi lo fa vedere alla cassiera. Ah, cercava i pelati? Sono là in seconda corsia! No? La Meloni che non parla più con le persone. Scrive solo sui social. Quando deve parlare con qualcuno, quindi scrive su Facebook e poi dice guarda su Facebook cosa ho scritto perché non parlo più con nessuno. ma solo tramite i social e ogni volta cerca di incolpare qualcuno. Quindi, ad esempio, sempre la Meloni al supermercato, una persona gli pesta i piedi, lei scrive sui social, dice quindi cerca di incolpare qualcuno tramite i social perché non parla più con le persone. Ma dopo due anni, aggiunge Elena, dopo due anni che non parla più con le persone, sarebbe bene se assumesse alcune responsabilità. No, l'ha detto ancora, stanno tagliando sanità e il sociale ed è sempre colpa di quelli che c'erano prima. La Meloni si è messa a tagliare la sanità e sta dicendo che era colpa di quelli di prima? Ma la Meloni ha tagliato la sanità? No! Ha messo più soldi dell'anno precedente? Sì! Addirittura, con i soldi che sono stati messi, 2 miliardi e 337 milioni, sono più di quelli che doveva mettere in base alla crescita del PIL. Quindi quest'anno c'è qualche soldo in più, un bel po' di soldi in più rispetto a quelli che dovevano esserci stanziati per crescere con il PIL, no? Ma lei va in giro, Elena, a ripetere sempre che la Meloni, Meloni, come, non so, Giorgia Mani di Forbice, no? Ricordate quel film? Come si chiamava? Cos'era? Edgar? Ma no! La mia mente se ne va, no? C'era quello che tagliava le siepi, no? Mani di forbice. Quindi anche Meloni è, Meloni, Mani di Forbice, perché lei taglia la sanità. Lei parcheggia, va davanti a un ospedale e comincia a tagliare le siepi dell'ospedale. Va bene, quindi Meloni taglia la sanità, lo dice tutti i giorni Elena. È da colpa a quelli di prima, cioè lei taglia la siepe fuori dall'ospedale, e poi dice chi è stato? È stato Draghi. È passato qui con gli attrezzi e ha tagliato la sieda. Va bene. Ve la sto mettendo un po' sul ridere perché è tanto simpatica la Elena, ma tanto simpatica. Poi andiamo avanti, ve lo dico seriamente, guardate che, cioè, non vi potete mica arrabbiare con una così, dai, su. Però attenzione che dicono che è un bel po' cattivella. Dietro quel sorriso sempre stampato c'è un personaggione ipocrita e che te la fa pagare. Quindi, vista così, in televisione, quello che dice sui giornali è simpatica. Però credo che lavorandoci insieme, avendoci a che fare, devi stare molto attento a quello che dici perché dicono che te la fa pagare. Bene. Torniamo alla Meloni che taglia. Meloni è Giorgia, mani di forbice. E poi dice, stanno per aumentare le accise sul diesel, nonostante fosse la stessa che si faceva ai video davanti al benzinaio, promettendo di abbassare tutte le accise, e poi incolpano l'Europa. Allora, la Meloni non prometteva di abbassare le accise, la Meloni prometteva di cancellarle proprio, che non si può fare, perché lo Stato vive sulle tasse della benzina, e una delle entrate principali sono le tasse su benzina e diesel. Quindi non si possono né cancellare e neanche ridurre. Un paese con 3.000 miliardi di debito, ma quale tasse cancella? Quindi, la Meloni, se diversi anni fa si era fatta il video da pubblicare, dove diceva le tasse, sto video non è che glielo puoi rinfacciare per tutta la vita, sapete quanti video ho fatto io dove mi sono sbagliato a lodare questo e quell'altro politico. Quindi, il passato è passato, scurdammo su passato. Il passato è passato. Quante cose io o voi abbiamo detto in passato che ci pentiamo oggi? Ma non è che uno te lo può rinfacciare per l'eternità. Il passato è passato, oggi è un'altra storia. Quindi stanno per aumentare le accise. Sapete di quanto aumenteranno le accise in Italia sul diesel? Un centesimo all'anno per 5 anni. Quindi, un centesimo di aumento quest'anno di diesel. Non credo che con un centesimo di aumento le persone andranno in fallimento. A questo punto, dice, adesso hanno fatto un accordo con l'Albania che non sta in piedi dal busto di vista giuridico e politico. Ma non è vero. Anche questa qui è un'altra bugia. Ma non è vero. L'accordo con l'Albania sta in piedissimo. Non c'è nessuna illegalità. Mattarella ha firmato. L'Europa ha elogiato. Non è contro il diritto nazionale. Non è contro il diritto internazionale. Quindi, l'accordo con l'Albania, dal punto di vista giuridico e politico, sta assolutamente in piedi. Ma cosa va a raccontare? Elena! Dai, ho appena detto che sei simpatica. Mi stai facendo innervosire. Dai! Dice, a nostro avviso è inumano perché va contro i diritti fondamentali delle persone. Oh mamma! Sentite, ditegli a Elena, se avete il telefono, magari gli telefonate, che il CPR fatto in Albania, disumano, quelle robe lì, è lo stesso, è un CPR come quelli che ci sono già in Italia da tanti anni. I CPR che ci sono in Italia li ha voluti la sinistra e sono delle sorte di carcere in attesa di rimpatrio. Sono dei veri e propri carceri, carceri dove tu non puoi uscire, non puoi uscire dalla stanza, non puoi uscire dal perimetro, è un carcere. Ma questi CPR c'erano già in Italia. La Meloni ne ha fatti due in Albania, identici a quelli che ci sono in Italia, magari anche un po' più carini. Però, parliamoci chiaro, non sono illegali, non è contro i diritti delle persone. i CPR ci sono già in Italia, li ha fatti la sinistra. Elena! Elena, ma dai, su! Arrivederci a tutti e grazie.